Si aggiornano in tempo reale le aperture di tutti i siti, in questo momento la notizia è, siamo sulla Gazzetta dello Sport, ma ce l'hanno tutti, molto alta in apertura, la positività del calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic, dopo la positività ieri di un altro calciatore del Milan, Duarte, sono stati effettuati i tamponi per la partita di oggi e questo è il risultato, Ibrahimovic è in isolamento. Non so se e come riaprire gli stadi, con quante persone negli stadi eccetera eccetera.